Almeno un migliaio le persone che hanno partecipato a Rocca Bernarda, nel crotonese, alla fiaccolata in segno di solidarietà nei confronti dell'ex sindaco Francesco Coco, vittima di una brutale aggressione abbastonata mentre era nel cortile della sua abitazione. Coco, 73 anni, sotto ufficiale dei carabinieri in pensione e da sempre molto attivo nell'antimafia e ricoverato all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, le sue condizioni sono in miglioramento. All'iniziativa hanno partecipato associazioni, cittadini e amministratori locali del territorio. È stata una manifestazione molto partecipata perché la gente vuole vivere in tranquillità, vuole che questo paese, questa comunità venga ricordata ed esca fuori dalle nostre mura, consentitemi questo termine, un messaggio reale del paese, che è un paese fatto di persone laboriose, di persone perbene, di persone che fanno sacrifici per mandare avanti le loro famiglie. Intanto il Tribunale dei minorenni di Catanzaro ha disposto la custodia in un istituto minorile per i due 17 anni accusati dell'aggressione a Coco. I due sono accusati di tentato omicidio pluriaggravato e violazione di domicilio. I minori non hanno risposto alle domande del giudice e al termine dell'udienza nei loro confronti è stata disposta la custodia nel carcere minorile.